Perchè avete deciso di aderire e di partecipare a questo evento organizzato da Milestone? Perchè siamo convinti che la Milestone è un grande fabbricante, il migliore che c'è oggi nel sviluppo dei software e sarebbe un grande partenario per noi per far conoscere la nostra tecnologia che veramente è avanzata e solo un grande fabbricante come la Milestone lo può far vedere oggi. Qual è il valore aggiunto di essere partner di Milestone? Allora infatti siamo partner di tutti i fabbricanti di software, non abbiamo veramente una scelta di uno o l'altro, però la Milestone ancora una volta è una ditta che è un successo che cresce ogni anno e noi siamo convinti che sarà il valore aggiunto non solo per il nostro prodotto, però per la Milestone, per fare differenza con la concorrenza. Perchè l'offerta che abbiamo dato alla Milestone è la possibilità di dare un prodotto che non esiste in altri concorrenti. E le peculiarità, le caratteristiche anche tecnologiche del vostro prodotto quali sono? Allora direi che prima noi come Imervision non fabbrichiamo, abbiamo dato sotto licenza la fabbricazione, la fa la Fujinon, la Fujinon fabbrica la lente che abbiamo disegnato. Grazie, questo vuole dire che questa lente è molto speciale, è una lente panomorfa, non è una lente tradizionale, è una lente che dà di più di informazioni, di più di pixel sui bordi dell'immagine che nel centro. E dopo c'è la possibilità, grazie a un fabbricante come Milestone o altri, di sviluppare un'applicazione tanto speciale che aperte delle porte che non abbiamo pensato da oggi. Da oggi? Vuole dire che la tecnologia che dà la Imervision tra la Fujinon, dà delle nuove possibilità nella TVCC che non esistono prima. Grazie a tutti.